Anche Mancini, sai, io ho avuto un bellissimo rapporto con Mancini, gli devo anche tanto a Mancini e penso che anche lui mi deve qualcosa. Però penso che la sofferenza più grande che ho avuto è stata Italia Macedonia, ragazzi, che non mi ha convocato. Perché porca c***a, io ce l'ho ancora rosicando col fatto che abbiamo perso i mondiali, mi sono preso la responsabilità senza motivo perché i senatori, e lo sai bene chi, e non è uno, sono di più, non avevano neanche c***o di metterla a faccia davanti alle telecamere. Mario, tu fai uno stage, no? Prima di quella partita, giusto? Mancini ti chiama per fare uno stage. In quei giorni di stage ci hai parlato con il mister? Il problema è che dopo i giorni di stage, prima che uscissero le convocazioni, io avevo parlato sia con Mancini che con il suo assistente e sembrava scontata la mia convocazione. Io sapevo al 90% di essere convocato. Ma perché te l'hanno detto? Sì, al momento della convocazione, quando ho visto che non c'era il mio nome, io ho chiamato direttamente al telefono Mancini, ho chiamato direttamente il suo assistente, ragazzi non mi hanno più risposto al telefono. Minchia, non ti hanno mai risposto al telefono? No, e nessuno ha mai avuto il coraggio di dirmi perché, nessuno, mai. Perché Mancini sai bene quanto mi ha voluto bene, quanto mi vuole bene, quanto mi ha sempre voluto. Quando entri nel giro nazionale, poi, soprattutto da allenatore, hai quei due o tre giocatori che non vogliono quello, hai la società che uno dirigente dice una roba, l'altro dice l'altra. Dopo, chiamare un giocatore o un altro non è quasi più neanche una tua scelta. Perché ti garantisco che la non convocazione di Mancini non è stata una scelta sua. Grazie a tutti.